la controfigura di marco io non c'entro niente io non c'entro niente io non c'entro niente io non c'entro niente no, quello che lo ho perso la prima cosa era la prima cosa laack la camera so o ci sono c'entro niente asciugato inizia inizia ma qui la macchina un'altra Sì, si può vedere perché la mia nascita è la storia. Sì, si può vedere perché la mia nascita è la storia. Sì, si può vedere perché la mia nascita è la storia. Sì, si può vedere perché la mia nascita è la storia. Sì, si può vedere perché la mia nascita è la storia.